La vera apocalissi è che la tecnologia, l'era della scienza applicata, farà dell'uomo qualcos'altro da quello che era prima. E' adesso che è successo qualcosa che non ha equivalenti nella storia dell'uomo. E noi siamo un po' terrorizzati dall'idea che i nostri discendenti, i nostri figli non siano più come noi. E' un po' la fine del mondo.